Preghiera del mattino Padre Santo e misericordioso, questa mattina ti preghiamo per coloro che soffrono. Gli indigenti, i senza tetto, i senza amore, gli affamati, gli immigrati, i poveri di ogni condizione. Non sei tu che hai messo il mondo sottosopra. O Dio, abbi pietà di loro e soprattutto di chi ci governa. Concedici di partecipare alla loro terribile responsabilità attraverso la preghiera. Amen.